27 gennaio, data importante che ci riporta indietro nel tempo, ci porta al giorno della memoria. Questa è la ricorrenza internazionale che si celebra appunto il 27 di gennaio di ogni anno per commemorare le vittime dell'olocausto. Oggi il Teatro Manzoni di Cassino, che come sapete è sotto la conduzione e direzione artistica di Radio Cassino Stereo, ha il piacere e l'onore di incontrare il signor Gianni Polgar, uno dei sopravvissuti e testimoni della Shoah e lo ringraziamo perché ci ha ospitato a casa sua per un'intervista esclusiva appunto con il Teatro Manzoni di Cassino. Grazie signor Polgar. Prego. Allora moltissimi usano il termine olocausto, ma anche noi un po' come tutti gli ebrei preferiamo Shoah, ovvero una tempesta devastante anziché utilizzare il termine olocausto che diciamo da un punto di vista della traduzione si avvicina più a un sacrificio diciamo inevitabile. Ripercorriamo insieme la storia di Gianni Polgar anche per conoscerlo un pochino meglio. Gianni Polgar è nato 85 anni fa se non erro a Fiume, la Croazia di oggi, quando era piccolo il governo fascista fece le leggi razziali e suo padre non poteva più lavorare. Ricordiamo che per queste leggi appunto gli ebrei non potevano appunto svolgere alcuna attività lavorativa, non era consentito esercitare alcun tipo di lavoro. Nel 1939 con la famiglia si trasferisce a Roma e anche a Roma ovviamente essere ebreo comporta dei problemi, era molto difficile, forse la prima volta che Gianni Polgar ha sentito la differenza, ha sentito questo disagio di essere ebreo è stato quando non poteva partecipare ai figli della lupa e a scuola non poteva neanche sedere vicino agli altri bambini. Sicuramente momenti di vita indimenticabili, terribili. Il 25 luglio del 1943 cade il governo fascista ma le leggi razziali non vengono cancellate. Quindi i tedeschi occupano l'Italia e chiedono agli ebrei di Roma 50 kg d'oro per la salvezza. Loro viene consegnato ma il 16 ottobre del 1943 fanno una razzia di 1500 persone, li portano in un collegio dove appunto fanno dei controlli e quindi ne restano mille che vengono condotti ad Auschwitz. E qui viene fatta un'ulteriore selezione tra chi poteva lavorare e chi invece no. Le persone che non erano adatte al lavoro furono portate nelle camere a gas. Per metterlo al sicuro, o almeno per trovarci, Gianni a sette anni, anni e mezzo circa, viene portato a casa di un'amica, un'amica di famiglia e gli fu proibito assolutamente di affacciarsi anche alla finestra per non farsi scoprire. Per più di un mese lui non ha saputo poi più niente dei suoi genitori, della sua famiglia. Dopo un po' di tempo insomma si rivede con i suoi. La mamma lo porta in un collegio e gli fa cambiare addirittura nome e cognome. Non solo, gli fa cambiare religione, gli fa studiare la dottrina cristiana e gli viene assolutamente raccomandato di dire che è orfano. La mamma poi lo andava a trovare ogni tanto, ma gli aveva anche raccomandato di non chiamarla mamma ma di chiamarla zia. Durante la seconda guerra mondiale ricordiamo, per chi lo avesse dimenticato, che sono stati uccisi ben 20 milioni di persone. E questo tra ebrei, tedeschi, malati, zingari, insomma tutti morti nei campi di sterminio. Ricordiamo che molte persone hanno messo a rischio la propria vita per salvare gli ebrei, ma ci sono state anche purtroppo delle persone, qui anche degli italiani che invece hanno venduto gli ebrei. Diciamo hanno consegnato gli ebrei per ricevere una ricompensa. Con Gianni Polgar oggi vogliamo dare la giusta attenzione a questa ricorrenza, a questa celebrazione internazionale, ripetiamo, del giorno della memoria. E lo facciamo anche per i tanti giovani che ora ci stanno seguendo dal Teatro Manzoni di Cassino. Signor Polgar, le chiedo, chi ha deciso che eravate diversi? Beh, è una storia molto lunga. Teoricamente risale a circa 2000 anni fa, quando ci fu la colpevolizzazione del popolo ebraico per la morte di Gesù da parte della nascente religione cristiana. Ma prescindendo dai secoli passati tra persecuzioni, discriminazioni e sofferenze, direi che la diversità, così come è stata concepita nel secolo scorso, di natura razziale, nasce da una pseudoscienza che è venuta fuori in Germania verso la fine del 1800, il razzismo biologico, per cui l'umanità era divisa in razze. Naturalmente c'era una razza superiore, che era la razza ariana, e poi c'erano le razze inferiori, fra cui gli ebrei. E da lì è nato tutto quello che ha conseguito come atrocità e massacri nel corso degli anni 30 e 40 del secolo scorso. Quando nella vita accadono cose terribili che lasciano il segno, la prima cosa che umanamente viene da fare è dimenticare, cancellare, soprattutto non parlare di quello che è accaduto, proprio per non riacutizzare ferite inguaribili. Lei invece ha trovato il coraggio di parlare di questa terribile parte della sua vita, dove lo ha trovato questo coraggio? Ma io confesso che non ho avuto bisogno di coraggio. Molti anni fa, mio terzo figlio faceva le medie, una delle insegnanti di mio figlio, parliamo della fine degli anni 80. Mi ha chiesto di parlare ai ragazzi dell'istituto dove, scusate, un po' di raucete, dell'istituto che frequentava mio figlio, e io ho parlato per la prima volta ai ragazzi. A casa mia si parlava di queste cose, sia ben chiaro. Mi sono reso conto, parlando ai ragazzi, di quanto fosse necessario portare al di fuori della famiglia la storia, ma non la storia della mia famiglia o la mia storia personale, ma la storia nel senso lato, cioè di quello che era veramente successo, del perché e del per come. E da allora non ho smesso. Ogni volta che mi è capitato, ho parlato ai ragazzi, poi mi sono iscritto all'associazione Progetto Memoria, di cui mi onoro di essere proboviro, fra le altre cose, e attraverso Progetto Memoria si va nelle scuole, si va nei convegni, si porta avanti la memoria, perché la questione è che la memoria è il futuro, non è il passato. Un popolo senza memoria, non so bene chi l'ha detto, è un popolo senza futuro. Questo vale pure per i singoli individui, e quindi la memoria va tramandata. Memoria, futuro, cose da dimenticare o da raccontare, in ogni caso la mente torna spesso, sicuramente anche la sua mente, torna spesso a quei giorni. Ma a distanza di tanti anni, lei prova ancora rancore, se mai ne ha provato? No, non provo rancore, non provo odio, sono sentimenti che non mi appartengono, non ho desiderio di vendetta, neanche questo non mi appartiene, ho desiderio di giustizia. Bisogna dire che purtroppo in Italia la giustizia non c'è stata, mentre in altri paesi, adesso prescindiamo dal processo di Norimberga, ma in Germania una certa forma di giustizia c'è stata, anche in altri paesi, i responsabili sono stati perseguiti quando li hanno trovati, sia ben chiaro. In Italia, presumibilmente anche in conseguenza del provvedimento di amnistia del 1946, nessuno ha pagato. E in Italia si è arrivati anche a delle situazioni, direi grottesche, di personaggi coinvolti pesantemente nella politica razziale del regime fascista, tanto io non mi li faccio tranquillamente, parliamo per esempio del professor Azzariti, esimio giurista, docente alla facoltà di giurisprudenza della Sapienza di Roma, che addirittura assurse al vertice di quello che volgarmente veniva chiamato il Tribunale della Razza, che era l'organismo che stabiliva se qualcuno apparteneva alla razza ebraica o meno. Quindi evidentemente molto ben coinvolto nel meccanismo. Dopo la guerra si è rifatto una virginità, ha mantenuto la catena universitaria, è diventato consulente del Ministro di Grazia e Giustizia, io non escluderei che ci sia stata la sua manina nella stesura del provvedimento di amnistia, ma addirittura la cosa più grottesca è che è diventato lui, ex fascista, ex razzista, è diventato presidente della Corte Costituzionale Italiana che è il massimo organo di tutela della nostra Repubblica. Lei ha accennato a quelli che hanno venduto dei miei coreligionari, attenzione non ai tedeschi, perché i tedeschi dopo la razzia del 16 ottobre, quantomeno a Roma, praticamente non hanno arrestato nessuno, sono stati presi dagli italiani, da miei concittadini e consegnati ai tedeschi. Questo è un particolare che va sempre ricordato. Bene, di questi nessuno ha pagato se non per l'unico reato che non era compreso nell'amnistia, che era il furto, per cui qualcuno di loro, fra cui un ebrea celeste di Porto detta Pantera Nera, che era amante di un ricercatore di ebrei, mettiamola così, sono stati condannati per furto, ma non per quello che avevano fatto. E questo è un problema che riguarda veramente lo Stato italiano, che non ha fatto i conti con la propria storia. Certo. Ha citato una bambina, mi vorrei tornare alla sua infanzia, che è stata sicuramente modificata, quindi è facile pensare che non l'ha vissuta come era giusto viverla in quegli anni. Ma cosa le è mancato di più? Cosa vorrebbe che non ha mai avuto dalla sua infanzia? Quello che mi è mancato di più, lasciamo perdere il periodo della persecuzione dei diritti, che era il periodo del regime fascista, prima dell'armistizio. Perché per fortuna i bambini hanno una percezione relativa dei problemi che li circondano, se non vengono toccati direttamente. Io confesso che sono stato toccato direttamente, come lei ha accennato, alla mia esclusione dei figli della lupa, al fatto che non potevo andare a scuola con i miei amici, ma dovevo andare alla sezione ebraica specifica. Ma a parte questo non avevo più di tanto la percezione di quello che mi circondava e della discriminazione a cui ero soggetto. Dopo l'8 settembre, quando sono stato allontanato dalla famiglia, per il periodo prima del collegio, e anche durante il periodo del collegio chiaramente quello che mi è mancato di più è la famiglia, l'affetto. Io non avevo notizie di mio padre, di mia sorella, mio fratello mi aveva raggiunto in collegio. Mamma la vedevo, se no una volta al mese, quando venivo chiamato in parlatorio da zia Annetta, che poi era mamma. Ma vai a dire a un bambino di 7 anni e mezzo, 8 anni, che non le puoi saltare al collo, che non la puoi baciare, puoi essere affettuoso perché può essere pericoloso, vi possono scoprire, vi possono portare via. Ecco, queste sono le cose che sono mancate. Ecco, a tal proposito, qual è la sensazione che lei ha provato quando vedeva sua madre e la doveva chiamare zia? Una difficoltà interiore che... Lì per lì, torniamo al fatto che i bambini hanno una forma di autotutella, una corazza interiore. Lì per lì era dura, ma si faceva. Poi però, col passare degli anni, uno elabora queste esperienze e le ferite vengono fuori dopo. Poi le ferite, per fortuna, si rimarginano, ma la cicatrice rimane. E la cicatrice c'è ancora oggi, sia ben chiaro. Sono esperienze che modificano caratterialmente le persone. Sicuramente tutta la mia formazione è rimasta non tanto ancorata, quanto nasce, ben o male, da quel periodo. E poi dal periodo successivo, dopo la liberazione, quando, parlandone in famiglia, venivano fuori i ricordi, sono venute fuori le storie degli altri familiari, di chi non è tornato. E questo poi ha formato il mio carattere, ha formato la mia tendenza, emersa, come ho detto, molti anni dopo, a portare avanti la memoria anche all'esterno. Sua madre la portò a casa di questa amica di famiglia per proteggerla. E lì le fu detto che non poteva affacciarsi alla finestra. Che cosa ha provato, diciamo, questa sensazione di reclusione, questa sensazione di non poter guardare il mondo fuori? Che cosa ricorda di quei momenti? Non vuole essere una battuta, sia ben chiaro. Ma due sono gli elementi che mi hanno indotto a obbedire a mia madre. Primo il timore di essere portato via, perché se fossi stato riconosciuto, mamma mi ha detto, ti possono portare via. E il secondo elemento è stato la pesantezza delle mani di mia madre, se io non obbedivo. Il sentimento lì per lì, il dispiacere di non poter chiacchierare con i miei amici, perché all'epoca noi bambini vivevamo per strada, non era il tempo come oggi. Stavamo a 200 metri da casa, in una zona dove io bazzicavo con i miei amici. Stavamo al pian terreno, la signora Bianca che mi ospitava, abitava al pian terreno. Quindi io mi sarei potuto affacciare alla finestra e fare una chiacchierata con i miei amici. E invece quello, no, non si poteva fare perché mi potevano riconoscere, vedere, potevano dire in giro che mi avevano visto, la voce poteva arrivare ai tedeschi e mi sarebbero potuto portare via. Io qui vorrei fare una premessa, se mi è consentito. Ho usato il termine tedeschi. Io molto raramente uso il termine nazisti. Come ebreo sono concettualmente, radicalmente, fondamentalmente contrario al principio della responsabilità collettiva di un popolo. Un popolo per me è assurdo che possa essere ritenuto responsabile di un qualche cosa. Mentre noi siamo stati ritenuti responsabili della morte di Gesù da duemila anni. Come praticamente se io fossi ritenuto responsabile di quello che forse avrebbe potuto fare un mio lontanissimo antenato di duemila anni fa, se fosse stato presente a un certo evento. Cioè una mostruosità giuridica, morale, sotto tutti gli aspetti. Quindi per me non esiste una responsabilità collettiva del popolo tedesco. Lo rifiuto proprio di principio. Però è evidente che la partecipazione attiva, diffusa da parte di centinaia di migliaia, forse di milioni di cittadini tedeschi, a quello che è successo. Sia civili che militari, perché si parla tanto di SS, SS, sì certo le SS, ma anche la Wehrmacht ha avuto le sue colpe, in quello che è successo. E poi i civili tedeschi, la magistratura, la burocrazia, tutto il mondo culturale, anche il mondo culturale tedesco è stato coinvolto in questo fenomeno. Quindi io ho elaborato un principio che non so quanto possa essere condiviso e parlo di sommatoria di responsabilità individuali. Per cui ogni singolo cittadino tedesco dell'epoca che abbia partecipato è responsabile. Ho avuto per motivi di lavoro successivamente contatti con il mondo tedesco. Io a parte tutto parlo un po' il tedesco, ma non ho mai avuto problemi, non ho mai sognato di chiedere a tuo nonno che forse avrebbe partito. No, non esiste, però resta il fatto che veramente troppi tedeschi hanno partecipato e quindi io uso il termine tedeschi e non uso il termine nazisti. Abbiamo detto che in tanti hanno aiutato gli ebrei a fuggire da un terribile destino, ma ci sono stati anche italiani e non solo italiani che invece hanno fatto l'esatto opposto, l'esatto contrario. Se lei non fosse stato ebreo, avrebbe aiutato un ebreo sapendo di mettere a rischio la sua vita? Sulla base della mia esperienza di vita rispondo di sì, l'avrei fatto. Onestamente devo dire non lo so se non avessi fatto questa esperienza, perché mettere a repentaglio la propria vita è un gesto di coraggio, un gesto di solidarietà umana. Oggi per come sono lo farei, non so onestamente se l'avrei fatto, come tanta gente non l'ha fatto, è rimasta indifferente. Perché il problema è stato che ci sono stati i complici, ci sono stati quelli che ci hanno speculato sopra, poi ci sono quelli che ci hanno aiutato, ci hanno protetto, e poi c'è tutta una zona grigia enorme di indifferenti. E uno si domanda se l'indifferenza non faccia parte della complicità, una complicità implicita. Anche perché ci sono stati dei casi in cui si è potuto vedere che non essere indifferenti ha portato a risultati positivi. Faccio un esempio, ma ne potrei fare tanti. In Bulgaria, la Bulgaria era alleata del Terzo Reich, i soldati bulgari combattevano insieme ai soldati tedeschi e ai soldati italiani sul fronte russo, per esempio. L'ambasciatore tedesco ha chiesto al governo bulgaro la consegna degli ebrei bulgari. Attenzione, degli ebrei della Bulgaria storica, non di quella parte della Bulgaria che era stata occupata nel corso della guerra, acquisita dallo Stato bulgaro durante gli eventi bellici. Il governo bulgaro si accingeva ad aderire, il Parlamento bulgaro ha votato una mozione che invitava il governo a non consegnare gli ebrei, erano circa 30.000 gli ebrei bulgari. Il clero greco-ortodosso bulgaro minacciò di sdraiarsi sui binari per evitare la partenza dei treni e, morale della favola, i 30.000 ebrei bulgari non sono stati deportati. Quindi, se delle voci si fossero levate contro, si potrebbe presumere che molte, ma molte, non dico quante, migliaia di vite potevano essere risparmiate. Quell'indifferenza di cui ha parlato, ha detto, persone che si sono comportate in questo modo, in questo modo, e ce ne sono state alcune che si sono comportate, diciamo, hanno mostrato un'indifferenza, può essere letta anche come paura, quell'indifferenza? Beh, una componente sicuramente di timore c'era, questo è evidente, perché si sapeva che chi proteggeva gli ebrei ne avrebbe pagato le conseguenze. tant'è vero che, quando è stato possibile, faccio il caso del direttore del collegio dove ero nascosto io, fratello Sigismondo Ugo Barbano, dei fratelli delle scuole cristiane, lui ha messo a repentaglio la propria incolumità, se non la propria vita, per quello che ha fatto, non solo nei confronti miei, di mio fratello, ma anche di altri ragazzi ebrei che erano nascosti in collegio, parecchi anni dopo, io ho raccolto abbastanza elementi per fargli concedere dallo Yad Vashem di Gerusalemme il titolo di giusto delle nazioni, perché veramente hanno superato il timore a cui lei accennava, la paura, e hanno messo a repentaglio la vita loro, non solo loro direttamente, ma anche dei loro eventuali collaboratori e familiari. Signor Polgar, se qualcuno dovesse tornare a prendersela con gli ebrei, quale sarebbe la sua reazione oggi? A livello individuale, dipende dalle circostanze, io potrei raccontare un episodio della mia gioventù, io sono come volgarmente si dice un pariolino, i miei amici erano a Piazza Santiago del Cile e nella mia banda, chiamiamola così banda, al mio giro, c'erano moltissimi aderenti all'organizzazione giovanile del Movimento Sociale Italiano, ma fra noi non c'erano, vivevamo tranquillamente, scherzavamo addirittura sull'argomento senza problemi. Una sera siamo andati al cinema, al cinema Civenini, a Via Civenini, al cinema Roxy, e uscendo dalla platea, all'epoca c'era una grande specchiera, potarsi che ci sia ancora adesso, è un mio carissimo amico che purtroppo è mancato alcuni anni fa, Franco Alberti, fascista, attenzione, con cui si scherzava, mi ha detto, ma guarda che faccia d'ebreo che c'hai, io gli stavo per rispondere, quando si è avvicinato un ragazzo di un altro gruppo, e il romanesco ha detto, ah fra dimmi, do sta all'ebreo che io sputo un faccia, io sono molto miope, anche se non sembra perché non porto gli occhiali, mi sono messo gli occhiali nel taschino della giacca, perché all'epoca si andava in giacca e cravatta, sempre, ho dato una ginocchiata nei cosiddetti a questo elemento, nei gioielli di famiglia, nei gioielli di famiglia e l'ho menato di santa ragione, io non sono un violento, ma l'ho menato di santa ragione, i suoi compari mi sono saltati addosso, i miei compari, fascisti quanto i suoi, si sono menati fra di loro ed è stata una cosa emblematica, diciamo, mettiamola così, sotto certi aspetti molto italiana, perché tanti fascisti italiani, bisogna dire, iscritti al fascio e anche gerarchi anche di medio livello, hanno aiutato noi ebrei, quindi diciamo che questo episodio è abbastanza emblematico. Assolutamente sì, assolutamente sì. Vabbè, questo è un caso di violenza, perché ripeto, io non sono un violento, se mi capita che qualcuno ha espressioni diciamo poco simpatiche nei confronti dell'ebraismo e degli ebrei, io reagisco verbalmente. Invece, se dovesse mai incontrare dei giovani che magari si rifanno a degli ideali nazisti, che cosa gli direbbe? Di studiare prima di parlare, perché normalmente questi atteggiamenti nascono dall'ignoranza. Cioè, questi ragazzi, questi giovanotti ignoranza, poca informazione, uguale poca informazione, mancanza di cultura, non sanno, non sanno, non sanno che cosa è stato il nazismo, non sanno che cosa è stato il fascismo, non sanno le feratezze provocate da queste due ideologie, e quindi gli dico, studiate e poi e poi ne parliamo, perché veramente non lo sanno, ma è capitato, sia ben chiaro, negano ah ma il fascismo è stato, ha fatto tanto bene all'Italia, dico sì, il fascismo ha fatto tante belle cose, ma un regime si giudica storicamente dall'esito finale, l'esito finale è tragico e quindi la valutazione è negativa, sì, ci può essere stato l'opera nazionale maternità e infanzia, l'opera reduci, la bonifica delle valute fontine, quello che si vuole, le colonie per i bambini, tutto quello che si vuole, ma la conclusione è stata tragica e quindi è negativa. Lei è un sopravvissuto diciamo a questa tragedia, si sente un miracolato, un uomo fortunato o altro? Un bambino fortunato, un bambino fortunato, io decisamente mi considero un bambino fortunato perché in effetti la mia esperienza, a parte quelli che sono stati poi i sentimenti interiori diciamo, ma fisicamente non è stata una cattiva esperienza, non era esaltante, ma la resa di conti io sono stato protetto in collegio, talmente protetto che il direttore del collegio di cui ho accennato prima, Fratelli Sigismondo, per proteggerci meglio a noi bambini ebrei ci faceva servire messa, io mi ricordo ancora come si serve messa in latino e gli inni che si cantavano in latino, tanto mergo e altre cose e addirittura nella prima era del 44, quando, all'epoca delle prime comunioni, sempre per proteggerci, per evitare qualsiasi rischio, perché ogni tanto i tedeschi entrava nel collegio o poteva uscire qualche voce, ha organizzato una finta prima comunione, e io da qualche parte ho una fotografia mia di mio fratello nel cortile del collegio con il nostro padrino di Cresima, perché all'epoca si facevano insieme comunione e Cresima, con tanto di fascia qui dei Cresimati, quindi la protezione è stata veramente una cosa molto importante che mi ha evitato delle esperienze diciamo fisiche negative. L'è capitato nella vita dopo questa esperienza appunto di incontrare qualcuno che poteva aiutarla ma che ha girato la faccia dall'altra parte? No, sinceramente questo non lo posso dire, anche perché ripeto all'epoca ero un bambino quindi era difficile che mi rendessi conto se qualcuno poteva aiutarmi o meno. Lei ha paura che una tragedia simile possa verificarsi di nuovo, signor Polgar e se ha paura che possa verificarsi di nuovo perché? Ma io non sono molto ottimista perché la storia dell'umanità è piena di massacri e di stragi che quindi l'umanità possa cambiare e che solo nei confronti degli ebrei non faccia quello che è stato fatto agli ebrei e a tanti altri milioni di persone è una forma di ottimismo esagerata. la mia speranza è che la conoscenza e la trasmissione della memoria porti a ridimensionare questi fenomeni a che queste cose se probabilmente riaccadranno che riaccadano in misura minore ecco mettiamola così perché noi vediamo che anche i nostri giorni di massacri ce ne sono continuamente vediamo che oggi si parla oggi di venti di guerra tra Russia e Ucraina e implicitamente anche di un intervento dei paesi occidentali a fianco dell'Ucraina e questo significa morti significa massacri quindi essere ottimisti no non sono ottimista sono speranzoso ecco bene è già un fatto positivo certo in questo momento centinaia di studenti di Cassino e del Cassinate la stanno guardando dal dal Teatro Manzoni loro sono il futuro del mondo cosa vorrebbe lasciare ai giovani a questi giovani o meglio cosa pensa sia più utile lasciare loro un messaggio oppure un obiettivo da raggiungere beh entrambe le cose direi cioè il messaggio è quello che la nostra esperienza la nostra vita tutta la nostra storia deve essere tramandata io oggi vengo chiamato come come testimone ma io ho 85 anni non so può darsi che domani me ne vada all'altro mondo la testimonianza tocca a loro alle nuove generazioni sono loro i nuovi testimoni quindi devono acquisire quegli elementi e quei valori che li inducano a continuare nel nostro parlare nel nostro proiettare in avanti quella che è la realtà del mondo con tutto il bene e il male che nel mondo sono rappresentati e le nuove generazioni hanno un compito molto pesante perché hanno una vita dura più dura della nostra i loro problemi di vita quotidiana sono più pesanti di quelli che abbiamo avuto che ha avuto quantomeno la mia generazione e quindi sono molto più occupati a risolvere i problemi quotidiani che non ad affrontare certe tematiche ma devono avere la forza e il coraggio di affrontare anche queste tematiche per loro e per i loro figli perché ripeto l'umanità è duale c'è il bianco e il nero c'è il buono e il cattivo il cattivo può emergere sempre e solo con la conoscenza e quindi con la tramandare della memoria da parte dei giovani si può sperare che questo cattivo non riemerga se non in misura ridotta noi tra poco vedremo una rappresentazione teatrale 13419 la necessità del ritorno scritto e diretto da Roberto Attias e per la produzione di Ettore Scola e con il suo racconto sicuramente il suo racconto ci aiuterà sicuramente a capire ancora di più quello che vedremo tra poco sul palco del Teatro Manzoni io la ringrazio la ringrazio intanto per la sua enorme ospitalità io ringrazio lei per avermi dato l'opportunità di parlare certo ma ci ha ospitato a casa e questo ci ha fatto sentire ancora più vicini al signor Gianni Polgar voglio ringraziare anche il nostro supervisor l'avvocato Beniamino Papa artefice di questo incontro perché lui ha contattato appunto il centro ebraico di Roma e poi ha avuto modo di parlare direttamente con lei e con la signora Terracina e le vorrei strappare una promessa so che lei ha detto gira poco viaggia poco adesso però di venirci a trovare al Teatro Manzoni perché ci farà piacere averla ospite ovviamente e perché no poi farle vedere anche tante cose belle che ci sono nella nostra città io confido nell'avvocato Papa che mi ha detto che tramite suo mi sarà possibile venire a Cassino e quindi sono sicuro che la cosa si realizzerà certamente benissimo e di nuovo rinnovo i miei ringraziamenti perché ogni occasione è buona per parlare di queste cose assolutamente grazie ancora per la sua ospedalità grazie a voi grazie a tutti